Nasce la più grande stazione d'Europa. I lavori per una rapida ed integrale sistemazione della rete ferroviaria urbana e suburbana della capitale sono in pieno sviluppo. Per il 42 Roma avrà il suo grande centro ferroviario capace di smistare un traffico giornaliero di oltre 200.000 persone. La nuova stazione di termini arretrata comprenderà ben sette piani, quattro dei quali sopra il piano di ferro, composto di 22 fasci di binari e tre nel sottoterra dove sarà costruita anche una chiesa, per i viaggiatori in partenza o in sosta nelle mattinate festive. Grazie a tutti!